che devo fare sempre un coro? comunque due ragazze su tutti che ora tocca a malverino a più corto tutto a posto in generale le ho detto tutti che devi marchino ci fa il coro allora marchino ci fa il coro di gus ma tutto eh bravo e rispondete a tono anche io comincio averne bisogno ma piccola nel bravo allora lo consento modera 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 tutti sulle mani modera modera ticca 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 ticca